andiamo a vedere cosa ci dice levati dalle palle non rispondo ma hai rotto i cabassisi non ci vengo a quel locale dopo ci vengo come si chiama la tv aspettate porca miseria levati dalle cabassisi un attimo Tony no beh giustamente io lo vado a prendere ha sfracassato i cabassisi questo andiamo effettivamente sei un po' un cabassiso al piede perché mi hai fatto uccidere no cioè non uso neanche pensare cosa succede se lo metti nel ballista no da dietro con quella scorpion per i tuoi cabassisi che per la prima volta del rotto sniper stavo riuscendo a prendere anche una cazzo di streak no me l'ha fregato ha tirato ma qua sotto c'è uno camperato e voglio capire questa cosa me l'ha fregato che era il decimo cabassisi maledizione tifurati sei 22,5 con la pistola bloccalo Rob bloccalo che io sto a 9 non capisco cerca di fare un'azione epica che è il quale puoi dire fratello ti ho ucciso con un'azione epica invece no tu mi punti quel cabassiso dici 4 la maledizione verso il prossimo obiettivo andiamo sali fratello cosa fa? quello salta i levati dai cabassisi ok verso il prossimo obiettivo merda avevo la possibilità di prendere due picciuoni con una fava invece me li sono inculati tutti e due cabassisi concentrazione alle stelle no che liscio che liscio cabassisi che liscio che liscio quel mirino fermati l'unica difetto è la portata cabassisiaca del prodotto incredibile come ho fatto a uccidere quello non l'ho capito neanche io oh se non mi sbaglio l'ultimo una bullet due bullet che cazzo è in GTA a me mi piace troppo questo sdrogo totale che se tu trovi una macchina cioè poi tutte le macchine intorno diventano quella e che cazzo che cabassisi ho è è pieno di bulle soldato forest mi viene da vomitare dove cazzo sono ok arena dove cazzo sono i nemici cabassisi miei oh aspetate che sto girando oh forca miseria c'è sempre un tassista in mezzo in mezzo di cabassisi sto gioco sempre no maledizione spunta da lì oh cabassisi questi qua che non spuntano è immortale no 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 tra l'altro dovrei anche riuscire a conquistare un obiettivo quindi adesso vado a conquistare un cazzo un cabassiso di obiettivo un cazzo